La regular season del campionato di pallavolo di prima divisione femminile è terminata. Ad aggiudicarsi il titolo di campione nella stagione 2016-2017 è stata l'Emilio Vietri-Montoro, con ben sei punti di distacco sulle ragazze del De Marcellos. Dopo la sosta pasquale però si riprenderà con la disputa delle semifinali play-off. A qualificarsi per la post-season sono state le seconde classificate a punto, Eserino, Quadrelle e Dariano. Ad avviare gli spareggi ci penseranno De Marcellos e Dariano che si affronteranno il 21 aprile alle 20.30 presso la palestra Damo di Adripalda. Il giorno dopo invece toccherà Eserino e Quadrelle alle ore 18 nella tendostruttura Vassallo in via San Sossio a Serino. Il ritorno invece si terrà nei giorni 26 e 27 aprile. Niente da fare dunque per le ragazze della Green Volley che l'anno scorso i play-off li avevano vinti proprio contro De Marcellos, la squadra più esperta del campionato e senza dubbio la favorita per gli spareggi promozione di questa stagione.